Salve ragazze, salve ragazzi, buonasera e buonanotte, visto che è un po' tardi. Allora, questa notte canalizzazione mi sarà richiesta da un po' di tempo ed è da un po' che non ne faccio, quindi non c'è variante, non c'è scelta di colore o di numero, ma selezioneremo 12 carte dal mazzetto di Osho e vedremo cosa vogliono dirci. L'incipit della canalizzazione è questa notte, in questo momento. Beh, la persona che ha fatto richiesta, ovviamente, credo si capisca, ha parlato nelle poche righe che mi ha scritto di una situazione che riguarda una storia d'amore, come potete immaginare quando si chiedono queste cose sono sempre storie d'amore a distanza o con qualche, diciamo, inconveniente nel mezzo. Quindi andremo a vedere questa cosa. Non dico che la premessa condizionerà necessariamente ciò che le carte diranno, però sicuramente partiamo da un contesto così nell'interrogarle, proprio perché gli interattivi sono risposte alle vostre domande specifiche. Detto ciò, andiamo a selezionare le 12 carte. Come è andato il mese di ottobre? Siamo a metà, avete notato fenomeni paranormali nel bene e nel male? Chi ha notato cose molto strane in questo mese? Se volete lasciate pure i commenti perché ne sto vedendo di tutti i colori. Ripeto, nel bene e nel male. Allora, abbiamo selezionato le nostre 12 carte che scivolano e andiamo a vedere. Questa notte, in questo momento, non riesco a dormire. Sono tanti pensieri che mi tormentano, mentre dentro di me provo a quietarmi. Provo a lasciare che tutto scorra via, che tutto mi scivoli addosso. Provo a non guardare. Ma non appena apro gli occhi, quelli fisici, come quelli del ricordo, appaiono tutti i tormenti. Li vedo. Li sento, ma li vedo. Non mi lasciano in pace, non mi lasciano riposare. Oramai sono molte notti che non riesco a dormire. E non posso parlarne con nessuno. Non posso parlarne neanche con te, quando io in realtà vorrei tacerne. E vorrei tacere. E che tacessero questi pensieri nella mia mente. Eppure non riesco. E l'unica cosa che posso fare è continuare a tenere gli occhi chiusi. Nonostante il mio cuore desideri con ardore di allontanarsi da questo luogo in cui mi trovo. Vorrei avere ali per potermi liberare nell'aria. Vorrei poter mostrare al mondo e quindi concedere anche a me stesso o me stessa di essere onesto e sincero con quello che provo. Eppure, quel qualcosa che per me ha tanto valore è nascosto proprio nell'angolo più buio della mia mente e della mia anima. Quella perla all'interno di una conchiglia che nessuno può aprire. Che nessuno può scalfire. Perché poi tra l'altro non lo permetterei. Sì, lo so. Queste parole forse non ti fanno neanche piacere questi pensieri. Perché ricordo di te ed è ricordo di noi. E allo stesso tempo, la tensione che mi logura è l'incapacità del mio non saper vivere questa storia. O del mio non saper vivere in generale. Ma credo di essere andato già sconfitto da questo punto di vista. Perché poi alla fine mollo prima ancora di tentare. Il problema è che mollo con il corpo. Mollo con i tentativi. Ma non riesco a far sì che anche i sentimenti seguano questa mia volontà. Perché i sentimenti vanno per proprio conto. Ed è così che scendono dentro di me. Scorrono. All'esterno scorrerebbero come lacrime. Ma non posso permettermene. Perché chi mi accanto capirebbe. Capirebbe che a volte sono lacrime di gioia. Ma spesso sono lacrime di tormento. Eppure, nel mentre posso trattenere tutto il resto. Nel mentre riesco ad indossare un'armatura bellissima, lucida. Che in un qualche modo poi mi anche protegge. Ecco che i sentimenti non riesco a gestirli. Non riesco a gestirli né nei miei confronti. Né nei confronti di chi ho intorno. E quindi sono malessere. Mi sono fatto taciturno. Sono diventata taciturna. Non rido più come prima. Non mi vado a uscire. Per fortuna posso utilizzare la scusa di questi giorni. Che è meglio non vedersi in giro. Per fortuna posso indossare la mascherina. E posso coprire le labbra quando mordo. Proprio queste ultime. Perché delle parole vorrebbero uscire. Ma le trattengo. E più ricordo di te. E più penso a te. E più ricordo la tua energia. Perché sei tu. Quella persona che mi hai insegnato. Forse senza neanche saperlo. A lasciar scorrere. A lasciar essere, esistere. I miei sentimenti. Che con te sono riuscita a condividere. Perché tu sei riuscita ad essere faro anche nei miei dubbi. Dicono che la luna sia ingannevole. Io so solo che quando ti ho incontrata. Quella luce. Per quanto ingannevole. Effimera. Ciclica. Che a volte scompariva. Ha rappresentato comunque un faro. A volte più vicino. A volte distante. Ma quantomeno mi dava un orientamento. E il desiderio di guardare fuori. Cosa che adesso non faccio più. E in questa notte e in questo momento vorrei tanto liberarmi da questa condizione. Non riesco a muovermi. Liberarmi vorrebbe dire allontanarmi da tutto e tutti. Vorrebbe dire assecondare l'indole solitaria che mi contraddistingue. Ma vorrebbe dire anche affermare la mia volontà. Cosa che in questo momento non posso fare e non so fare. Forse perché in effetti non avere la propria volontà. Non la ho. E questa è la cosa peggiore. Perché non ho un punto di riferimento. Non so neppure la cosa voglio fuggire. So solo che non riesco a stare nel luogo in cui sono. E quindi dovendosi restare sono tormentato. Di conseguenza non riesco a dormire. E i pensieri si fanno più vividi. Non posso nascondere. E rimpianto che provo. Per tutte le volte non sono nei tuoi confronti in cui ho deciso di mollare. Ma ancora prima di aver tentato. Perché ho giudicato. Ho giudicato le mie forze in negativo. E ho giudicato le persone intorno a me. Non credendo minimamente che lì dove non posso arrivare io. Magari. Possono arrivare loro. E ho forse dimenticato. Che venirsi incontro. Significa compiere dei passi in modo reciproco. E quindi a volte. Quando la stanchezza sopraggiunge. Se anche mi dovessi fermare. Magari. Saresti stata tu a raggiungermi. O qualche altro evento della mia vita. Ecco. Non lo saprò mai. Proprio perché. Non ho osato. Vivere queste situazioni. Per paura di perdere quel poco che avevo. Per trattenere. Quel poco. Che ancora oggi ho. E che poi non rappresenta. Chissà che grande. Importante tesoro. Ecco. Ho fatto. Deserto intorno a me. Ho essato muri. Che non sono stati assolutamente. Una protezione. O una difesa. Ma sono stati solo. Separazione. Mi hanno separato. Se separato dagli altri. Ma mi hanno separato innanzitutto. Dal mio futuro. Perché in fondo io. La cosa. Che ho. Allontanato da me. A cui ho rinunciato. Prima ancora. Che alle persone. E alle relazioni. Sono state le possibilità. Di realizzazione personale. Il mio futuro. A un certo punto. So solo che mi sono fermato. E non ricordo più la causa. Forse. Quel bene. Che. In un primo momento. Mi è sembrato. Talmente appagante. Quei primi risultati positivi. Della mia vita. Forse mi hanno accecato. Ed ecco perché. Adesso non riesco ad aprire gli occhi. E non voglio vedere. È una sorta forse. Di punizione. Non lo so. Tu cosa diresti. Cosa mi ricorderesti. Che mi sto punendo da solo. Perché. Ho lasciato che i miei occhi. Si riempissero. Di risultati. Troppo facili da ottenere. E spesso effimeri. Ho risposto in maniera troppo entusiasta. A quei primi guadagni. Ho creduto di essere arrivato. Di essere giunto. E quel pensare di essere giunto. Chissà dove. È diventato per me. Arrestarmi in un luogo. Dal quale poi. Non sono riuscito più ad allontanarmi. E quello che prima sembrava. Il frutto. Di un lavoro. O di un desiderio. Si è rivelato essere solo zavorra. Io non sono riuscito più a riprendere il cammino. E quei frutti sono diventati un peso. Che mi hanno ancorato ancora di più a terra. Sono stato io a chiudere quel libro. E sono stato io. A non voler leggere i capitoli a seguire. Questa notte. In questo momento. Io so solo che non vedo nessuna direzione. Sento un fortissimo peso. E se già. Nelle settimane passate. Nei mesi passati. Ho rinunciato. Definitivamente. A qualsiasi scelta. E ho accettato. Anche di convivere. Con questi miei. Pianti. Quest'oggi. Mi sento. Molto più debole. Eppure tra. I pensieri. Che non mi abbandonano. Compresi quelli. Che sono dei veri e propri. Moniti. Ci sono anche pensieri belli. Che diventano struggenti. Proprio perché distanti. Sia nello spazio. Che nel tempo. E tra questi pensieri. Ci sei anche tu. Avrei voluto avere il coraggio. Di sfidare. Non solo. La mia pavidità. Ma anche il contesto. Arido. Non lo so. Perché in fondo. Non era il contesto. Che doveva amarti. O provare. Ma dovevo essere io. Nel dubbio. Che questa margherita. Riaccende. Del mi amo o non mi ama. Nel tentativo. Avrei dovuto provare a sfogliarla. Magari il risultato. Sarebbe stato negativo. O forse no. Ma non lo saprò mai. Perché oltre a non sfogliare. Questa margherita. Non ho lasciato neppure. Che nascesse. Avrei potuto. Stare al tuo fianco. L'ho desiderato. Ma non sono riuscito. A compiere quel passo. Per avvicinarmi. Sono rimasto rigido. E anche tu. A modo tuo. Non hai fatto nulla. Forse rispettando. L'apparenza delle mie volontà. Invece. Lì dove non si potevano vedere. I miei desideri. Io ero già unito a te. E l'unica speranza che ho. Nonostante la mia immobilità nel presente. È che in un futuro. Anche se lontano. Questi desideri. Possano diventare. Alla luce del giorno. Una realtà. In questa notte. In questo momento. Vorrei solo. Poter ricomporre. Tutti i pezzi. Della mia vita. Ma. Al momento. Ho solo i pezzi. E non ho il senso. Non so metterli assieme. E non ho ancora imparato. La lezione. Forse. Un giorno. Riuscendo a collocare. Ogni singolo avvenimento. Al posto giusto. Riuscirò a comprendere. Anche. Tutto quello che è accaduto. E comprendere il passato. Probabilmente. Mi darà una visione. Una vera visione. Per il futuro. E finalmente. Riuscirò. Ad aprire nuovamente gli occhi. like planner. A presto. A presto. A presto. A presto.